Il prezzo della pancetta di maiale 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 Un saluto e ringraziamento anche a Carlo Benetti Market specialist di GAM Carlo buon pomeriggio Grazie anche a lei e grazie dell'invito E allora ripartiamo proprio da il tema Insomma sollevato in apertura E cioè le tensioni Che oramai chiamarli tale È riduttivo insomma Tra Russia e Ucraina Un conflitto che Sta rischiando di accendere Mice sempre più pericolose In questi giorni si parla anche Di allerta nucleare Lo sappiamo è stata la Russia E' una situazione come detto Che si evolve giorno dopo giorno Sia dal punto di vista Ovviamente bellico E questo è evidente Ma anche dal punto di vista Come dire Economico e a partire Da i russi stessi Notizia di oggi Il fatto che in giro Insomma per Mosca È impossibile trovare la valuta straniera È uno degli effetti immediati Scusate Delle sanzioni economiche Contro Mosca E la conseguente Maxis valutazione Del rublo Che è in corso In queste ore La corsa alle valute estere Ma a Mosca Ci riferiscono Insomma gli inviati Nelle banche straniere Come Intesa San Paolo Unicredit O anche Raiffeisen Bank È impossibile Reperire valuta estera Per non parlare poi Insomma di altri fattori Che possiamo poi andare Ad approfondire Tra poco Benetti Parto da lei E le chiedo Le chiedo Chiedo scusa Come secondo lei Stanno vivendo i mercati Questa situazione Se si aspettava Una resilienza maggiore O minore Dato che siamo proprio davanti A quella che è Possiamo considerare Una guerra Un'invasione Di un paese In un altro E insomma Se quanta diciamo Quanta benzina hanno Chiedo scusa Per il gioco di parole Per magari Rimanere Non collassare Per davvero Quanto posso Perché comunque La reazione La vediamo Non c'è stato il panic selling Che magari ci si poteva aspettare Benetti A lei la parola Beh innanzitutto Ha ragione lei Chiamiamo le cose Con il loro nome Siamo in guerra Nelle settimane precedenti L'attacco a sorpresa Delle truppe russe Dentro i confini Dell'Ucraina I mercati erano più sensibili Ai movimenti dei tassi Che ai movimenti Delle truppe russe Sui confini Dell'Ucraina Si riteneva Che la guerra Non fosse Una opzione Né ragionevole Né praticabile Abbiamo scoperto Purtroppo Che è Resta irragionevole Ma purtroppo La logica di potenza È considerata Uno strumento praticabile Ora I fatti si stanno Susseguendo Molto rapidamente Per certi versi Anche tragicamente Gli esiti Sono ancora Molteplici Alcuni sono Augurabili Altri sono Insopportabili Come lei Ne ha fatto anche Riferimento Nessuno però È prevedibile E In momenti Di alta volatilità È meglio Evitare L'esercizio Della previsione Della scommessa Su come andranno Le cose Che resta Tutto molto Incerto Ma semmai Ecco La volatilità L'incertezza Esigono Una maggiore fedeltà Ai principi Della diversificazione Della flessibilità Il tempo Non il timing È l'ingrediente Del successo Venendo ai mercati Come lei mi ha chiesto Devo dire Che la giornata Di giovedì scorso Ma per certi versi Anche oggi Sono state giornate Quasi Da manuale Da manuale È stato il crollo Del rublo Il crollo Della borsa Della borsa Di mosca Prevedibile L'impennata Dell'oro Gli acquisti Sui beni Sugli asset Ritenuti Porti sicuri Come il treasury Franco svizzero Lo yen Il dollaro E si sono impennate Le materie prime Non solo energetiche Ma anche metalli industriali E le materie prime agricole Però non è stata Da manuale La giornata Delle borse I cali di giovedì scorso Tra il 4 e il 5% Wall Street Che ha chiuso positivamente Dopo un recupero Inatteso Ecco mal si acconcia Come dice No dicevo con un più 3 Cioè non ha chiuso solo positivo Ma con Nasdaq Che ha chiuso Il 3% Ha riassorbito È stata una corsa Inattesa Che mal si acconcia Appunto con le notizie Drammatiche Che vengono Dalla Che vengono dall'Ucraina Però Il 4 Il 5% Anche la giornata Di oggi Siamo molto lontani Dal crollo A doppia cifra Che abbiamo sperimentato Ad esempio Il 12 marzo Del 2020 Sono cinici I mercati Ci si è chiesti In questi giorni Che mentre Mentre ci sono persone Che combattono E le borse Tutto sommato Hanno una reazione Matura Hanno una reazione Non di panico Come il meno 17 Della borsa italiana Lo ricordiamo appunto Il 12 marzo Del 2020 Ecco Io credo che Cinismo Dei mercati Forse no Perché per essere cinici Bisogna Per calpestare Delle norme Per calpestare Dei principi Come è tipico Del cinico Bisogna riconoscerli I mercati Sono molto più basici Molto più semplici Sono Probabilmente Con l'aiuto di Hegel E qui E qui concludo Forse sono etici Si può dire Che i mercati Sono etici Perché agiscono Nel rispetto di regole Leggi Convenzioni Ma sempre Nel senso di Non sono morali E semmai Sono premorali E la morale Resta confinata A noi Ai singoli individui Alle singole società Che si comportano Responsabilmente Ecco Il recupero Delle borse Lei ha citato Il nasdaq Il meno Le perdite Tutto sommato Gestibili Sono riconducibili Non tanto Al cinismo Quanto più Prosaicamente Alla valutazione Dei possibili esiti Della crisi Nel lungo termine Perché Le borse Poi alla fine Si alimentano Di aspettative Di lungo Di lungo Periodo E a proposito Proprio di questo Di questo tema Castoldi Vengo da lei Quella reazione Di cui Ha parlato Ha parlato Benetti Meno 5% L'Europa Sostanzialmente Ma con Wall Street Che invece Ha fatto questo Recupero clamoroso Niente a che vedere Con Il vero e proprio Crollo Insomma Di metà marzo Del 2020 Causa Covid Può essere che Come dire Quando c'è Una percezione Di un pericolo Reale Sotto gli occhi Di tutti E quindi Un pericolo Consapevole Il mercato Non reagisce Nella maniera In una maniera Eccessiva È più facile O meno impossibile Che reagisca In quella maniera Come ad esempio Marzo 2020 È una domanda Magari mi sbaglio E se sì Mi correggete Senza problemi In una situazione Invece dove C'era meno chiarezza Come quella del Covid In cui si cominciava A chiudere Ma c'era poco Ne sapevamo ancora poco La stessa scienza Inizialmente L'aveva classificato Come una sorta Di raffreddore A cui fare un po' Più di attenzione Poi le cose Inevitabilmente Sono cambiate Ecco Può essere anche Questa una motivazione Per cui Al momento Il mercato Possiamo dirlo Tiene Quello azionario Quanto meno Direi due cose Per quanto riguarda Il fatto Che il mercato Degli Stati Uniti Si stia comportando In maniera Migliore Rispetto ai mercati Per esempio Dell'area euro È un po' Nella natura Delle cose L'impatto Diretto Dell'incremento Dei costi Di gas O della difficoltà Di approvvigionarsi Di gas Viene sentito Immediatamente Dalle economie Dell'area euro Mentre gli Stati Uniti Hanno chiaramente Un impatto Diretto Molto più limitato Tra l'altro Gli Stati Uniti Il caso ha voluto Che gli Stati Uniti Alla vigilia Di questa crisi Avessero accumulato Qualche settimana Di performance Leggermente peggiore Rispetto ai mercati Europei Quindi mercati Che erano stati Penalizzati in precedenza E meno direttamente Impattati Hanno fatto sì Che vediamo E credo Continueremo a vedere Per qualche settimana Una minore Vulnerabilità Del mercato americano Rispetto a quelli Dell'area Dell'area euro Più in generale Allargando Il discorso Non solo alle borse Ma a tutti gli attivi Rischiosi Quello che gli investitori Stanno facendo È pesando Gli effetti Diciamo Economico Finanziari Di questa situazione E questi effetti Agiscono Attraverso Il Meccanismo Di trasmissione Del prezzo Del petrolio E del prezzo Delle materie prime Energetiche È un impatto Che è immediatamente Negativo Dal punto di vista Della Crisita economica La crisita economica Alla vigilia di questa crisi Anche in questi giorni È decisamente buona A livello globale Anzi In molti casi In miglioramento Però al margine L'impatto Dell'aumento Del prezzo Del petrolio È sicuramente Un impatto Di tipo Che va a rallentare La crisi Economica Così come È un impatto Negativo Sul fronte Dell'inflazione Perché a parità Di altre condizioni Maggiori prezzi Del petrolio Determinano Maggiori pressioni Inflazionistiche Quindi i mercati Stanno pesando È chiaro Che questi Da un lato L'effetto Sull'inflazione Potrebbe Determinare Un inasprimento Delle manovre In senso Meno accomodante Da parte Delle banche centrali Le quali però Dovranno mettere Sull'altro Piatto Della bilancia Appunto Questo effetto Di tipo Recessivo Dell'aumento Dei costi Dell'energia Quindi non è detto Che il risultato Non sia Banche centrali Al margine Un pochino Meno Restrittive Di quello Che ci si sarebbe Ipotizzato All'inizio Di quest'anno E quindi Forse è anche Questo Anzi sicuramente È anche questo Che contribuisce A limitare Gli effetti Negativi Però la volatilità C'è È molto forte Continuerà A rimanere Quindi Ci tengo anche A ribadire le parole Del collega Benetti Che ha detto Prima È molto importante In queste fasi Non farsi Travolgere Emotivamente Dagli eventi Ma riuscire A guardare I nostri investimenti Da una prospettiva Di medio termine Di lungo termine Che ci evita Di fare errori In questa fase Che potrebbero essere Molto costosi Beh Abbiamo fatto Con In questo caso Una sorta di Volo planare Quasi Su un po' Su tutti I temi Che Che dobbiamo affrontare Che sono sul tavolo E che Vedete anche Nel nostro Nel nostro titolo Mercati tra guerra Inflazione Covid E banche E banche centrali Peraltro Tornando un po' Ai mercati E alla questione Economica Dell'argomento Sempre notizia Di oggi Oggi la borsa di Mosca Non ha aperto Bloccando La possibilità A stranieri Istituzione Persone fisiche Di vendere azioni E asset russi Un modo Per qualcuno Per tanti Canaglia Per far rimanere Intrappolati In qualche modo Gli investitori esteri Nel collasso Del mercato In corso A Mosca Nel frattempo A proposito Di banche centrali Nella notte La banca centrale Russa Ha alzato i tassi Da 9,5 Al 20 Per provare A evitare Quella che è La svalutazione Della moneta Una mossa Per molti Disperata Insomma Con la coda Di cittadini E i bancomat Che abbiamo visto In questi giorni E che vediamo Ancora oggi Ritirare i contanti Il rublo Oggi perde Il 25% Su euro In apertura E questo fa seguito Al collasso Già visto Nei giorni scorsi Il blocco All'uso di riserve La banca centrale russa 640 miliardi Ammassati Più o meno Imposto dall'Occidente Mira a impedire Il controllo Di controllare Scusate Il cambio E favorisce La caduta Verticale Della moneta Di Mosca Sostanzialmente È uno degli effetti Anche di quello Che potrebbe essere Così Insomma Il capitalismo Applicato Alla gestione Alla politica Di Putin Non voglio ovviamente Scendere nel tema Delle decisioni politiche Dell'Occidente Della Nato Insomma Degli Stati Uniti Nei confronti Di Mosca Perché non è questa Non è questa la sede Però È ovvio Che ci sono anche Così Insomma Conseguenze Soprattutto Evidentemente Agli abitanti Agli abitanti russi E Questo insomma Nè Nella prova Quello che Insomma Vi ho appena Vi ho appena letto Che è appunto Notizia Notizia Di oggi Dicevamo Anche Dei temi Che inizialmente Fino a qualche giorno fa Erano quelli primari E che adesso Stanno scendendo un po' In maniera secondaria Ma che continuano a influenzare Quello che accade Quello che accade Sui mercati Benetti L'atteggiamento Delle banche centrali Sembrava fosse Veramente cambiato A un certo punto Dopo un 2021 Colomba È diventato Un 2021 All'insegna Del falco Ovviamente Parlo della Fed Che spinge Per ridurre Ogni tipo Di stimolo monetario D'altra parte Castoldi L'ha già anticipato In qualche modo Dall'altra parte La BCE Inizialmente Sembrava avesse Un approccio Molto contrario E invece Insomma Si sta pensando Anche in questo caso A frenare Ogni tipo Ogni tipo Di stimoli La domanda Senza il conflitto Forse La domanda chiave Era Chi Quale delle due Avesse ragione Tra la Fed E la BCE È ovvio Che a questo punto Lo anticipava Castoldi È probabile Che entrambe Dovranno trovare In qualche modo Una via di mezzo Insomma Trovarsi a metà strada Per in qualche modo Ancora prima Della crisi bellica Nell'est Europa Le banche centrali Già da mesi Ma lo ricordava anche lei Nel commento Erano E sono Di fronte a Quell'esercizio difficile Che la crisi ucraina Non porta che a Incrementare Ne esacerba I tratti In definitiva Da una parte L'immanenza Dell'aumento Dei prezzi L'inflazione Fa paura Dall'altra Però Una perdita Cioè Siamo ancora In una fase Di crescita globale Ma la crescita globale Che perde Un po' di vigore Come se fossimo Nella derivata seconda Si va avanti Ma si va avanti Meno Perlomeno Meno Meno Rapidamente Ecco Inoltre abbiamo La Cina La crescita cinese Un ancora Che per Molte volte è stato Un ancora Un punto di riferimento Della crescita globale Che però paga La politica Del zero Covid Tenendo a casa Magari tenendo a casa Isolando le persone Ammalate Parliamo di migliaia Di persone Quindi ritardi Nella catena Nella manifattura Nelle catene Delle spedizioni La recrudescenza Del prezzo Delle materie prime Se fa felici I paesi esportatori Penalizza Le economie Importatrici Quindi la Cina Di nuovo L'Europa Sava san dire Il punto debole È la politica E l'indipendenza Energetica Ma anche la Cina Taiwan La Corea Poi abbiamo Due situazioni Diverse Sulle due sponde Dell'Atlantico Negli Stati Uniti L'inflazione È davvero seria Anche l'inflazione Core Come si dice L'inflazione di base Depurata Dalle componenti volatili Delle energie E degli alimentari È sopra I livelli Desiderati Dalla banca Centrale Dalla Federal Reserve Lì si parla di inflazione Da domanda Lì ha senso Usare lo strumento Dei tassi Secondo Il manuale Del bravo Banchiere Del bravo Banchiere Centrale Negli Stati Uniti Io credo Che nella regione Di marzo Un intervento Sui tassi Sia ancora Ragionevolmente Da aspettarsi Non condizionato Dalle Quanto sta accadendo In Ucraina Quanto sta accadendo In Europa Tutto sommato Stiamo parlando Di un passaggio Da tassi Ultrabassi A tassi Comunque Ancora bassi Diversa La situazione Da noi Perché da noi L'inflazione È ancora Caratterizzata È un'inflazione Da offerta La pesa Soprattutto Il costo Delle materie prime L'aumento Del costo E della bolletta Energetica Non ci sono Ancora Le tensioni Salariali In questo senso Anche Le dichiarazioni Di settimana Scorsa Della Schnabel Allentano Tendono ad allentare Le pressioni O diciamo La percezione Che abbiamo Delle pressioni Tedesche Sul board Della banca centrale Europea Per un immediato Intervento Quindi La guerra In Ucraina Forse pesa Di più In Europa E rallenta Magari Appunto Indebolisce Le pressioni Le pressioni Tedesche Sulla banca centrale Perché I prezzi Dell'energia Certo Che costano Un pedaggio Nella Recrudescenza Dell'inflazione Dell'aumento Dei prezzi Però È pur vero Che non ci sono Tensioni Che rendano Questa inflazione Strutturale Come invece Negli Stati Uniti Dove ci sono Tensioni Dove aumentano Aumentano I salari orari E tutti i settori In tutti i settori L'inflazione Core È superiore Al livello Indicato Al 2% Indicato Dalla banca centrale Ecco Sono due situazioni Diverse E direi Che la guerra In Ucraina Peserà Un po' Meno Nelle valutazioni Della banca centrale Americana Mentre Viene tenuta In debita Considerazione Dalla banca centrale Europea Che ha la riunione Comunque Pochi giorni Pochi giorni Prima Della banca centrale A metà marzo Della banca centrale Americana A metà marzo Perché si tiene conto Terranno conto Dell'aumento Dei tassi Potrebbe Conculcare Una ripresa Già Resa vulnerabile Dalla perdita Di vapore Diciamo così Della crescita globale E dalla recrudescenza Dei prezzi Nella bolletta Nel fabbisogno Energetico Mi correga Se sbaglio Rimango su di lei Per una precisazione Intanto ovviamente Lei ha citato giustamente Isabel Schnabel Che è Per chi non lo sapesse Membro del comitato esecutivo Della banca centrale europea No 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 Ma io sono qui apposta Quindi ci mancherebbe No La spiegazione Magari sono io Che mi sono perso un passaggio Diceva che Inevitabilmente La Fed Si occuperà Probabilmente Già a marzo Quasi sicuramente Di portare i tassi Da ultra bassi A bassi E' anche vero Che probabilmente Poi queste sono proiezioni Che arrivano Così insomma Perché poi Le grandi case d'affari Le grandi banche d'affari Devono fare quello di mestiero Erano arrivate anche proiezioni Che tipo Ogni Ogni riunione Ogni consiglio direttivo La Fed Avrebbe alzato i tassi Per nove volte Durante l'anno Per cui E' vero che si passa Da ultra bassi A bassi Ma E' qui completo la domanda Se rimane così Come dicono Alcune previsioni Il passaggio Da ultra bassi A medi Sarà anche Abbastanza veloce O no? Beh sì E c'è anche Questa considerazione Consideriamo Diciamo Lo scenario base E' quello di incrementi Di A ogni riunione Di 25 punti base E anche se Qualche esponente Del Borda Ha fatto Riferimento Alla possibilità Di un incremento Di 50 punti base Questo non è mai successo Dal 2000 Mi pare In maggio 2000 L'avevo letto Nell'acribia Degli 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 statistici Non Non parlerei Ancora Di tassi medi Ma ancora Dei tassi bassi Perché comunque C'è un ancoraggio Questo è stato ripetuto Su tutte e due Le sponde Dell'Atlantico Alla evoluzione Della situazione Nello scenario Di lungo termine Vediamo i tassi Swap Sull'inflazione Non viene prezzata Al 7% Ma viene prezzata Al 3% Quindi Nello scenario Di lungo termine Quelle Mi faccia Ecco Le condizioni Quelle condizioni Strutturali Che hanno Per molti anni Schiacciato La crescita globale E schiacciato L'inflazione Non sono scomparse La La differenza demografica La contrazione Della forza lavoro La debole crescita Di produttività Le disuguaglianze Sono tutti elementi Il saving luck Cioè questo eccesso Di risparmio Rispetto alla capacità Di investimento Ecco Non sono scomparse Restano In Restano in Secondo piano In relazione Alle notizie Che stiamo vedendo Ma anche L'inflazione Stessa Stiamo vedendo Un fenomeno Non vi Ma raramente Visto In passato Perché non è Paragonabile All'inflazione Negli anni 70 Nel giro Di meno Di 12 mesi Marzo 2021 Gennaio Gennaio 2022 Quindi in meno Di 12 mesi Abbiamo un'inflazione Core Che è passata Da 3% Negli Stati Uniti Dal 3% Al 6% Quindi è stato Uno sbalzo Non è stata La pallina Di neve Che si trasforma In valanga Come fu Negli anni 70 È un fenomeno Straordinario Che è frutto Di due anni Il 2020 Al 2021 Eccezionali Straordinari Quindi nel medio periodo Probabilmente Tutta questa crescita Che è stata La crescita del 2021 Che ha avuto L'effetto rimbalzo E anche in Italia Abbiamo Il tasso di crescita cinese Del 6% Probabilmente Ci auguriamo Possa rimanere Ma probabilmente Andrà ad affievolirsi Quindi Io credo che ancora Lo scenario verosimile È quello di un passaggio Da tassi ultra bassi A tassi bassi Perché nel medio termine Tutta questa forza Della crescita Noi in gam Non lo vediamo Non è la palla di neve Che diventa valanga È stata più la pallina Che si regala ai bambini Quella che rimbalza E non sai mai Dove diavolo va a finire Lanciandola contro il muro Insomma Ci abbiamo giocato tutti Più o meno Castoldi Ovviamente le chiedo Se vuole aggiungere Se vuole integrare L'intervento Del collega Di Carlo Benetti Ma io E aggiungerei anche Sempre cercando Di mantenere L'attualità In primo piano E quindi Le conseguenze Sul mercato Da parte Del conflitto Della Russia Ucraina Ci si poteva Forse anche Aspettare Una caduta libera Diciamo Del mercato Se consideriamo Che È vero che nel 2022 Insomma L'anno per Lo standard PUR500 Non sia cominciato Nei migliori dei modi L'apertura peggiore Degli ultimi 90 anni Nell'ultimo decennio È anche vero Che Insomma I mercati Sono volati L'azionario Ha raggiunto Ha sfiorato Il 300% Mi pare che L'abbia anche Accennato Nel suo primo Intervento Un trend Insomma Impressionante Per cui C'era già la sensazione Che i mercati Fossero Troppo cari Domanda E che Potesse voler dire Una ripresa Dei rendimenti Sull'obbligazionario Spesso si aspetta qualcosa Per Spingere Appunto Il mercato In una direzione In un'altra Vedi il covid Come è successo Due anni fa Questa volta Non è accaduto Ed è interessante Anche questo Questo aspetto Prego Castoldi Allora Prima di venire All'argomento Valutazione Dei mercati azionari Proprio Telegraficamente Due parole Sulle banche centrali Anch'io penso Che la banca centrale europea Sia più sensibile Della federal reserve Agli effetti negativi Dell'aumento Dei costi Delle materie prime E che quindi Farà di tutto Per essere Un pochino Più accomodante O il più possibile Accomodante Dato il contesto Inflazionistico Questo lo possiamo Possiamo esserne Molto sicuri L'ha già fatto Perché se voi guardate Anche negli ultimi mesi Mentre la federal reserve Ha modificato La propria retorica In senso Falco Già da parecchio tempo La BCE Era solo Nelle ultime settimane Che aveva iniziato Leggermente A modificare Il proprio linguaggio Quindi questo Possiamo sicuramente Aspettarcelo Devo dire però Che non credo Che questa situazione Possa durare A lungo Cioè una situazione In cui due banche centrali Così grosse E così importanti Mantengono atteggiamenti Troppo Troppo diversi Alla lunga Le pressioni Inflazionistiche Tendono a globalizzarsi E le banche centrali Chi prima Chi dopo Chi più intensamente Chi meno intensamente Ma tendono a muoversi Nella stessa direzione Perché? Perché se non lo facessero Ci potrebbero essere Degli effetti Poco graditi Ad esempio Nel tasso di cambio Una situazione In cui la Federal Reserve Diventa molto restrittiva E la BCE Sta ferma Comporterebbe Probabilmente Un forte Deprezzamento Dell'euro Rispetto al Rispetto al dollaro Il che però Significherebbe Maggiori rischi Di inflazione Importata Per l'economia europea Quindi questo Per dire Che se nel breve Ci può essere Possiamo aspettarci Questa Questa divergenza Di comportamento Nel tempo Secondo me Andrà pian pianino A riassorbirsi Questo per quanto Riguarda le banche centrali La domanda Sulle valutazioni È molto interessante Mi dà anche Lo spunto Per fare Un piccolo ragionamento Come citava Giustamente lei Partiamo dal mercato Americano In questi ultimi anni Dieci anni L'apprezzamento Del listino È stato Vigorosissimo Ma c'è un motivo Perché i profitti Delle aziende quotate Che poi sono Il vero motore Dell'investimento Azionario Hanno avuto Un andamento Altrettanto Eccezionale Quindi i fondamentali Sono andati Dalla parte giusta Tra l'altro Non è un caso Che il mercato Americano Ha sempre fatto Così meglio Rispetto agli altri Mercati Proprio perché La capacità Di questo paese Di produrre utili È estate Probabilmente Continuerà A esserlo Molto migliore Rispetto ad altre Aree geografiche Resta il fatto Che È vero I mercati Sono diventati Comunque un po' più cari Le valutazioni Sono aumentate Perché I mercati I listini azionari Si sono apprezzati Proporzionalmente Più di quanto Sono effettivamente Cresciuti Gli utili Quindi sono diventati Un pochino più cari Perché Perché durante questi anni Le banche centrali Sono state molto Accomodanti Non abbiamo avuto Un problema Di inflazione La liquidità È stata molto abbondante E quindi è stato Un fenomeno Del tutto naturale Sono diventati Più cari Ma la domanda è Ma sono troppo Sono troppo cari E qui purtroppo La risposta Deve essere la solita Poco soddisfacente Che è Il dipende Nel senso che Dobbiamo capire Cosa succede Agli utili E cosa succede All'inflazione E ai tassi di interesse Gli utili Stanno andando Decisamente Dalla parte giusta Quindi da questo punto di vista E al netto Di quello che succederà Con questi eventi Bellici Gli utili Possiamo aspettarci Che continueranno Ad essere Un ottimo traino Dei mercati azionari Dall'altro lato Però Inflazione E tassi di interesse A differenza Degli anni passati Inizieranno ad essere Un po' più penalizzanti Per cui forse L'equazione Non è più Così semplice Come è stata In passato Però Non significa Che i mercati azionari Non abbiano Spazio di apprezzamento Soprattutto Dopo i ribassi Che A cui abbiamo assistito In questa prima parte Dell'anno Concludo Dicendo Che però Una cosa La possiamo dire I mercati Una chiara Notizia La situazione La situazione La situazione Si sta Evolvendo Dire giorno Dopo giorno È riduttivo Probabilmente Minuto Dopo minuto Notizia di poco fa La Cina Ha dichiarato Che si oppone Alle sanzioni Unilaterali Illegali E continuerà E continuerà a svolgere Il fronte Diciamo così Del gas Ad esempio Se l'Europa Stacca In qualche modo I rapporti Con il gas La Russia Mi risulta Abbia già Un accordo Con la Cina Ma Con Una convenienza Che non è minimamente Comparabile Con L'accordo Che aveva Con l'Europa Quindi Da quel fronte La Cina Probabilmente Avrebbe solo Da guadagnare Però ovviamente C'è anche un aspetto Politico Da gestire Ed è quello Che evidentemente Sta portando avanti La Cina Come già detto Non entreremo Nel tema Politico Quindi Castori Non le voglio Chiedere I perché I per come La Cina Abbia deciso Di portare avanti La cooperazione Commerciale Di non stare Dalla parte Di Nato E Stati Uniti Però Non possiamo Non considerare Un colosso Come la Cina Che in questo momento Se ne sta Moderatamente In disparte All'interno Del conflitto All'interno Della reazione Diciamo Del mercato Che sta avendo Nei confronti Del conflitto Con una Cina Che al momento Io credo Stia mandando Qualche ammiccamento E forse Anche più Di dire Qualche riduttivo Nei confronti Della Russia Una Cina Che è sempre La Cina Diciamo Locomotiva Del mondo In qualche modo Ma è anche Una Cina Che arriva Da diverse Difficoltà Sul lato immobiliare La famosa Bolla causata Da Evergrande Anche in questo caso Me ne rendo conto Domandona Diciamo così Di quelle in cui Si mette anche Il jolly Nei telequiz Di una volta Però insomma Il tema è sicuramente Anche quello Del colosso asiatico Prego Sì Allora Direi che anche Da un punto di vista Economico Finanziario La Cina Rappresenta In questo momento Un mondo a parte Rispetto al blocco Occidentale Così come citava lei Anche da un punto di vista Politico E strategico Abbiamo detto Che i paesi Occidentali Sono alle prese Con un problema Di inflazione Con un problema Di banche centrali Che diventano Meno Accomodanti E con una crescita Economica Che c'è Anche se Sta leggermente Decelerando Sia pure in maniera Non preoccupante Prima di questo Evento Evento bellico Ecco la Cina Da questo punto di vista È in una situazione Completamente diversa E che Ci torneremo dopo Può dare anche Qualche opportunità Per noi investitori Qui l'inflazione È ampiamente Sotto controllo Stiamo parlando Di livelli Al di sotto Ancora del 2% Probabilmente Salirà un po' Ma rimaniamo In questo ambito Quindi decisamente Al di sotto Delle pressioni A cui stiamo assistendo Nei paesi Nei paesi sviluppati Il che Fa sì Che la banca Centrale cinese Sia l'unica Tra le grandi banche Centrali Che sta ancora Mantenendo Un atteggiamento Estremamente Accomodante Ha tagliato I tassi di riferimento Quest'anno Probabilmente Continuerà A farlo Sta Mollando Le redini Per così dire Del credito Dopo averle tirate Lo scorso anno Quindi sta rendendo Il credito Più Un rallentamento Abbiamo visto Tutti La crisi Del settore Immobiliare In parte Innescata Appunto Dall'avere Ridotto La disponibilità Di credito Abbiamo Citava Carlo Benetti Le restrizioni Le restrizioni Anticovid Particolarmente Particolarmente Dure Vi ricordate L'impatto Di regolamentazione Su molti settori Molto violento E improvviso Quindi tutto questo Ha determinato Un rallentamento Del settore Immobiliare Ma in generale Di tutta L'economia A cui le autorità Stanno rispondendo Quest'anno E continueranno A rispondere Probabilmente Gli effetti Non saranno Immediati Però Noi ci aspettiamo Che nei prossimi mesi E anche in prospettiva Dell'anno prossimo Questa sia un'economia Che sia destinata A migliorare Grazie anche A questi stimoli Che non sono solo Di tipo monetario Sono anche Di tipo fiscale Non sono poderosi Ma ci sono E ci saranno E saranno destinati Soprattutto in progetti Di spesa pubblica Per infrastrutture Le limitazioni Anticovid Probabilmente Come nel resto Del mondo Verranno Leggermente Leggermente E gradualmente Rimossa Quindi possiamo Aspettarci Una ripresa Che possiamo Sfruttare Sicuramente Per l'investimento Situazionario Ripeto Con una prospettiva Più di medio termine Non domani E neanche Dopodomani Però Possiamo entrare In questo Ordine Di idee E anche dal punto di vista Del mercato Obbligazionario Notiamo Una notevole Stabilità Legata Ai fattori Di cui parlavo Prima E che quindi Ci può offrire All'interno Di un portafoglio Obbligazionario Che quest'anno Soffre un po' A causa appunto Della tendenza Al rialzo Dei tassi di interesse E dei problemi Di inflazione Che offre invece Una zona Di stabilità E di tassi di interesse Che probabilmente Non scenderanno In maniera importante Però Difficilmente Avranno quel trend A rialzo A cui abbiamo assistito Nei paesi sviluppati E insomma Quindi questo è quello Che possiamo aspettarci Dalla Cina Nei prossimi mesi E insomma Come influenzerà L'economia L'economia globale Benetti Se vuole Aggiungere anche lei Una battuta Insomma Sul tema Cina Che è sicuramente Un tema Lo era già Un tema molto affascinante Per quanto Pericoloso Beh Lo diventa ancora di più Per questo suo Diciamo Coinvolgimento indiretto Inevitabilmente All'interno Del conflitto Poi torno Per chiudere Sulla Cina Di nuovo Da Castoldi Per poi chiudere Sul tema Inflazione Perché alla fine Diciamo che il mercato È rimasto a lungo Si è più spaventato Per l'inflazione Che per la guerra Possiamo dire Serenamente questo Ma una cosa alla volta Benetti Beh Anch'io sto fuori Dal ragionamento Dalle valutazioni Di ordine politico Sulle Alleanze O sulla strana Amicizia Perché in realtà Russia e Cina Sono stati storicamente Avversari Quindi in questo momento È un'alleanza O meglio ancora Una intesa Più necessitata Che naturale Sottoscrivo Quello che diceva Stefano Ricordando solo Un aspetto tecnico In questo momento La Cina L'economia cinese È sottorappresentata Negli indici Quindi sempre In una prospettiva Di medio termine Che ricordava Correttamente Stefano In una prospettiva Di medio termine Dobbiamo aspettarci Che anche gli indici Tengano Prenderanno Atto Della rilevanza Dell'economia cinese Nell'economia globale Il peso Che ha Nell'economia globale Quindi Ne adegueranno Anche Il peso Negli indici In questo momento La Cina Sotto l'aspetto finanziario È sottorappresentata È un ulteriore Elemento tecnico Per guardare A quell'economia Con interesse Benetti A questo punto Dopo aver integrato La risposta Già comunque Completa Di Castoldi Le chiedo Di aspettare Un attimo Per completare Il giro Sulla Cina Perché A Stefano Castoldi Volevo anche Sottoporre La questione Un po' più da vicino Di Evergrande E cioè Anche Soros Si è pronunciato Asserendo che Nella crisi Del colosso cinese Porterebbe a ben più Gravi conseguenze Ponendo seri problemi Al sistema Bancario e finanziario Del paese A sorpresa Secondo i dati Della scorsa settimana I prezzi delle case Nel mese di gennaio Sono cresciuti Leggermente Ma sono comunque cresciuti Grazie all'intervento Di Pechino Che ha allentato Le misure imposte Proprio per paura Della bolla E quindi rendendo più facile L'accesso ai finanziamenti Questi sono temi Che ci sembrano vecchissimi Perché oramai Si parla solo e soltanto Del conflitto Russi-Ucraina Ma sono comunque Anch'essi Di stretta attualità E allora Quel provvedimento Di Pechino È stato Sufficientemente Tempestivo Evidentemente Sull'aspetto Insomma Della bolla immobiliare Della possibile Bolla immobiliare Che evidentemente È rimasto Come punto interrogativo Sì Allora Il settore immobiliare Negli ultimi anni È stato Un pilastro fondamentale Della crescita Dell'economia cinese Che ha portato con sé Però L'abbiamo detto Il problema Di un enorme indebitamento Che a un certo punto Le autorità L'anno scorso Hanno deciso Di voler affrontare In maniera più decisa Per cui La disponibilità Di credito Al settore immobiliare Sia ai costruttori Che agli acquirenti Di proprietà immobiliari È stata È stata Diminuita Con tutte le Conoscenze Le conseguenze Che abbiamo visto Quindi i problemi Di Evergrade Ma in generale Il tema Dei fallimenti In un sacco Di aziende Di aziende Del settore Quest'anno La gravità Diciamo Dei problemi Del settore immobiliare Hanno fatto Cambiare Direzione Alle autorità Nel senso che Proprio per evitare Che queste Lo scoppio Di questa bolla immobiliare Si potesse allargare Al resto Delle Delle economie Creare danni Ancora maggiori La disponibilità Di credito Ai costruttori E ai compratori È stata Di nuovo Aumentata E quindi Possiamo sicuramente Aspettarci Dei miglioramenti Che però Non saranno Ancora una volta Immediati Nei prossimi mesi Le difficoltà Rimarranno I falimenti Delle aziende Immobiliari Cinesi Continueranno A ritmi Molto elevati Anche perché Abbiamo parecchie Scadenze Proprio di Obbligazioni Nei prossimi mesi Quindi Sto parlando Con una prospettiva Un po' più lunga Però Questa maggiore Disponibilità Di credito E appunto Il passare Attraverso Questi mesi Ancora difficili Creerà Le condizioni Per una Successiva Stabilizzazione E miglioramento Che è lo scenario Che abbiamo In mente Ripeto Più uno scenario Di medio termine Che non Nell'immediato E intanto A proposito Di Colossi E parlando Non più di Cina Ma di Russia Cito Quello che sta Accadendo Sul mercato Ad esempio Per quanto riguarda Sberbank La più grande Banca russa In Europa Detiene asset Per quasi 14 miliardi Di euro Quotata a Mosca Oggi Chiusa Per precauzione Oggi Lunedì 28 febbraio Chiusa per precauzione Ma anche a Londra Perde E' aperta Insomma Le quotazioni Sono ovviamente Aperte Sta perdendo Il 70% Sostanzialmente Il mercato Sta scommestendo Sul suo collasso Ovviamente Chiedo ai miei ospiti Che se hanno qualcosa Da aggiungere O se ne vogliono Correggere Su alcuni aspetti Liberi di farlo Inoltre Anche il gigante Del gas Gazprom E' a meno 40% Le sanzioni finanziarie Così stanno Cercando Quanto meno Di Asfissiare Mosca Probabilmente Più dei missili Della contraerea Degli avversari Vediamo se poi Si può parlare Di un Putin Messo all'angolo Oppure Oppure no E non è detto Che questa cosa Possa essere Una buona cosa Perché abbiamo visto Anche le minacce Di che tipo di minacce Sia capace Appunto Il leader Il leader russo Detto questo Benetti Io tornerei Sul tema Dell'inflazione Anzi mi fermo Su questo tema Qualcosa da aggiungere? No Quello che ha detto lei E' corretto Si pensava E lo stesso governo russo Magari pensava Di poter assorbire Le sanzioni Grazie alle ingenti Riserve valutarie La Russia E' il paese Con maggiori riserve Valutarie Rispetto a tutta la famiglia Degli emergenti Ma non era stato messo in conto Probabilmente La compattezza Dei paesi occidentali Nell'applicare le sanzioni E la loro durezza Il blocco Dell'attività Della banca centrale russa Certamente E' importante Quindi Vanifica Il valore Delle riserve L'ingente valore Delle riserve Valutarie Complicando Complicando per tutto lo scenario E' una pallina Che scivola Sul piano inclinato Torniamo Alla vecchia Metafora Che avevamo fatto Anche se declinata In maniera In maniera diversa Dicevo L'inflazione Torniamo E chiudiamo Perché insomma Abbiamo ancora Dieci minuti Di tempo Sembrava ieri Quando ci ricordavamo Insomma Di Mario Draghi Che diceva All ever it takes Faremo tutto ciò Che sia possibile Per raggiungere Il 2% Un tasso di inflazione Attorno al 2% Poi è schizzata Lo abbiamo detto Insomma In maniera Piuttosto anche Chiara E ripetuta Nel corso Della nostra Chiacchierata Improvvisamente Forse ha colto Un po' tutti Di sorpresa Quanto meno Chi non lavora Magari quotidianamente Sui mercati Abbiamo parlato Del prezzo Dell'energia Sicuramente Una delle cause Ma anche la guerra È causa di inflazione È causa di inflazione Questo lo sappiamo Fin troppo bene Qualche giorno fa La notizia Anche da un'indagine Di Regno Unito Nuova Zelanda Stati Uniti Canada Australia Sulle grandi compagnie Di navigazione E trasporto marittimo Che starebbero abusando Di una situazione Di oligopolio Basti pensare Che nove società Da sole Gestiscono L'85% Del traffico Merci globale E allora A questo punto La domanda Torna a quella Iniziale A cui abbiamo già Provato a rispondere E in questo Poi sentiamo anche Cosa ne pensa Castoldi Di chi è La colpa Se è giusto Esprimersi In questo modo Di questa inflazione Che è ancora Le stelle Lo ricordava lei Specie se consideriamo L'inflazione Core Che riguarda Gli Stati Uniti Prego Farò telegrafico Perché il tempo Corre Un po' le cose Ce le siamo anche detti Io credo Che la colpa Che l'inflazione Questa inflazione L'avevo ancora fatta Come dice Dicevo la domanda Così diretta Non gliel'avevo Non gliel'avevo ancora fatta Né a lei Né a poi a Castoldi Quando cederemo La parola Prego L'ho interrotto No no Volentieri L'inflazione È figlia Di due anni Straordinari È un fenomeno Eccezionale Esito Di due anni Eccezionali Io non credo Alla Perduranza Nel tempo Dell'inflazione Proprio perché Figlia di questo Di questo periodo Poi chiaramente Quando si parla di Transitorietà Nei cicli economici Va misurata Come minimo In trimestri Non certo In settimane O mesi Però credo Che il colpevole Sia il 2020 La grande contrazione Della domanda E dell'offerta Contemporaneamente È stato tutto chiuso E il 2021 Una richiesta Improvvisa In attesa Della domanda Che ha trovato Della domanda Che ha trovato L'offerta impreparata Le catene Delle offerte impreparate E lei ha citato Anche il caso Dei noli E il fatto Dei prezzi Delle spedizioni Che sono schizzate Alle stelle L'esempio Appunto Il paragone Con gli anni 70 A mio avviso Non regge Nella prospettiva Di medio Lungo termine La prospettiva Di medio Lungo termine È quella Di una crescita Che tornerà A essere Un po' più lenta Proprio perché Quelle condizioni Strutturali Lo dicevamo prima La demografia La contrazione Della massa Lavoro Della forza Lavoro La produttività La crescita La debole Crescita Di produttività Le disuguaglianze Continueranno A esercitare Una pressione Al ribasso Sulla Capacità Di crescita Castoldi Concludo Rapidamente Così mi ricollego Anche a quanto Diceva Il collega Stefano Castoldi Sulle valutazioni In un ambiente Comunque Inflazionistico L'inflazione È come la Criptonite Per gli asset Come la liquidità O le obbligazioni Quindi le azioni Restano Il luogo Che nel tempo Protegge Il valore Reale Degli investimenti Del capitale E a questo punto Sì Cedo la parola A Stefano Castoldi Per Diciamo un po' Insomma Completare E chiudere Definitivamente Il tema Dell'inflazione Vale anche per lei Non sono andato Non sono voluto La lei poi Subito dopo Ma se vuole Se vuole aggiungere Qualcosa Sul tema Che ho espresso Insomma Sulla Banca russa Che sta Sprofondando Così come anche Gazprom E che sono appunto Alcuni degli effetti Delle sanzioni Che magari spesso Si dice Vabbè ma Ste sanzioni Come si vedono Come si quantificano Eccole Sono alla portata Di tutti Anche magari Per chi non segue I mercati Con attenzione Giorno per giorno Dicevo Che magari Non si aspettava Quest'inflazione Così Insomma Così Così Extraterrestre Ecco Sul tema Della Russia Ho poco Da aggiungere Alla disamina Perfetta Del collega Anch'io Penso Che le sanzioni Che stiamo vedendo Siano Poderose E probabilmente Non era scontato Che fossero Così Quindi È una variabile Che probabilmente Mischia un pochino Le carte Sul tema Dell'inflazione Io mi sento Di dire Velocemente Che l'inflazione È un fenomeno Naturale Quando usciamo Da una recessione Succede sempre L'abbiamo sempre visto In tutti i cicli economici Da sempre Al termine Di una recessione La domanda Riprende vigorosamente L'offerta Che ha Delle rigidità sue Che sono state Enfatizzate Della recessione Non riesce A tenere il passo E quindi Si crea l'inflazione C'è una tendenza Al rialzo Dei prezzi Questa volta Il covid E quindi contagio Ha amplificato Ha amplificato Tutto Perché Dopo la recessione Del 2020 La ripresa Della domanda È stata Ancora più forte Del normale Perché? Perché ci sono stati Degli stimoli Senza precedenti Da parte Dei governi Delle banche centrali Quindi La ripresa Della domanda È stata Amplificata Ma non solo Le rigidità Dell'offerta Che ci sono Naturalmente Sono state Ulteriormente Amplificate Dalle chiusure Anticontagio Per cui Diciamo Gli stabilimenti Anziché Riaprire Sono stati Chiusi A lungo E quindi Tutte quelle Difficoltà Negli approvvigionamenti Nei costi Delle materie prime Eccetera Quindi direi Che l'inflazione Da essere un fenomeno Normale A causa Del contagio È rimasto Enfatizzato Questo è Secondo me La descrizione Più sintetica E anch'io Concordo Con quanto Diceva il collega Che Probabilmente Siamo In qualche modo Vicini Al picco Di questa Accelerazione Dell'inflazione Che un po' Per l'adeguarsi Dell'offerta Alla domanda Un po' Per anche Per un effetto Base Perché iniziano A passare Più di 12 mesi Quindi nella variazione Anno su anno Da quando L'inflazione È iniziata A manifestarsi Dovremo vedere Gradualmente Scendere Nei prossimi mesi E vedremo di quanto Perché se scende Troppo poco È un problema Se scende Di più È un'altra Situazione Quindi questo Lo vedremo In assenza Di pressioni Salariali Fortissime Che non Stiamo vedendo Anch'io credo Che l'inflazione Nel medio e lungo termine Dovrebbe riassestarsi Su livelli Più bassi E prima di salutarci Aggiungo Quest'altra notizia Che riguarda Sempre insomma La questione Delle sanzioni Ma che inevitabilmente Va a colpire Anche le società Che in qualche modo Non sono direttamente Coinvolte Mi spiego Una È una storia Di borsa Quasi Ma British Petroleum Che opera Nel settore energetico E nel petrolio Sta perdendo terreno Oggi in borsa Oggi lunedì 28 febbraio Dopo che Nella giornata di ieri Ha dichiarato Di voler uscire Dal capitale Di Rosneft Che è compagnia Petrolifera Di proprietà In maggioranza Del governo russo Che fa sempre In qualche modo Parte della sanzione Rinuncerà Alla quota Del 19,75% Beh oggi In borsa Sul Regno Unito Quindi sul UK Index Cede È arrivato a cedere Fino al 7% E sicuramente È un calo Piuttosto Piuttosto Forte Insomma Per questa Per questa compagnia Per ricollegarmi Un po' Appunto Al tema Attuale Che riguarda Appunto Il conflitto Russi-Ucraina Che ci ha accompagnato In tutti questi 60 minuti O quasi Insomma Di conversazione Di analisi Con i nostri ospiti Per la nostra Prima TV Week Dedicata all'asset Del pomeriggio E che ringrazio Ospiti che ringrazio E quindi Davvero Un ringraziamento speciale A Stefano Castoldi Head of Multi Asset Income Strategies Amundi Buon lavoro ovviamente E alla prossima Grazie a voi E a Carlo Benetti Market Specialist GAM Anche a lei Insomma Buona giornata Buon proseguimento E davvero Alla prossima Grazie Grazie anche a lei Buon proseguimento Siamo stati chirurgici Anche nei tempi Quindi complimenti A entrambi Gli ospiti Anche per Diciamo La sintesi Noi adesso ci fermiamo Piccolo break Pubblicitario Al rientro Ci ricolleghiamo Con la diretta Sui mercati Con le vostre domande E con l'analisi Dei nostri Specialisti E dei nostri Osservatori A tra poco Con le vostre domande